Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti, leggo su ansa.it che la Nato adesso chiede più truppe a difesa aerea contro Mosca, proprio così. Dunque la Nato non si placa e anche ora che vi è stato il cambio della guida della Nato e Stoltenberg ha ceduto il passo a Rutte, non sfuggano i nomi di questi segretari della Nato, nomina suntomina dicevano i latini, ebbene cambia l'orchestra ma si suona la medesima musica ed è una musica di guerra, la musica della guerra della Nato contro la Russia di Putin, colpevole di non genuflettersi al nuovo ordine mondiale liberale atlantista e anzi di propiziare la possibile genesi di un mondo multipolare o poliarchico, che dir si voglia, sottratto alla libido dominandi dell'imperialismo a stelle strisce. Insomma, con quest'ultima notizia, secondo cui, leggo su ansa, la Nato chiede più truppe per difendersi dalla Russia, come se fosse la Russia ad attaccare la Nato e non viceversa, a proposito di manipolazione organizzata e di controllo propagandistico dell'informazione, ebbene la Nato vuole armarsi fino ai denti contro la Russia. Nì il Novi Subsole era già nell'aria da parecchio tempo e adesso possiamo dire che, al di là di ogni ragionevole dubbio, questa è a tutti gli effetti la guerra dell'Occidente, anzi dell'Occidente liberale atlantista contro la Russia di Putin, che ormai de facto è stata accerchiata dall'Uccidente e dalle sue truppe, utilizzando l'Ucraina del Guito Zelensky come instrumentum belli.